ancora in diretta dal lago la cina voglio farvi capire perché come vi dicevo ieri sera il lago è zona di lupi guardate queste mucche con al centro i cinque vitellini quindi le mucche in automatico spiegano ai vitelli di mettersi in centro onde evitare predazioni da lupo quindi il lupo deve prima attraversare tutto il blocco delle mucche per poi entrare nel cerchio di protezione come vedete tutte mangiano ma c'è quella lì in fondo che ci sta guardando perché oltre ad avere i vitelli lì vicino c'è il vitello che è la latta quindi le mucche si sono disposte in modo strategico tutti i piccoli al centro e all'esterno tutti i grandi abbiamo finito questa bella